Scavolini Store Novedrate si sviluppa su una superficie di 400 metri quadri 12 cucine, 10 bagni e 2 living, tutti selezionati per voi dalla vasta gamma Scavolini Lavoriamo nel campo dell'arrenamento da oltre 70 anni, collaboriamo con Scavolini da 15 anni Inauguriamo il nostro primo store a Novedrate Siamo pronti a guidarvi nella scelta del vostro prodotto Scavolini, vi aspettiamo! Scavolini Store Novedate! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!